Buongiorno, sono Anna Giulia Garneri, docente di lettere all'Istituto Sociale. L'accademia che presenterò si chiama Passion Lives Here ed è un'accademia nata dalla collaborazione della casa editrice ad editore con la Scuola Holden di Torino. Il progetto prevede due fasi, una prima fase si svolgerà in classe al mattino, gli studenti dovranno scegliere uno dei libri della collana di saggistica divulgativa che si chiama Incendi di ad editore, nei quali gli autori parlano delle proprie passioni. I ragazzi saranno quindi chiamati a analizzare e a capire quali sono le passioni che animano le loro giornate e dovranno realizzare un filmato di tre minuti nel quale le raccontano alla classe. La seconda parte del lavoro invece si terrà al pomeriggio nella vera e propria accademia di scrittura tenuta da un docente della Scuola Holden, nonché scrittore rinomato Emiliano Poddi. Emiliano Poddi guiderà i nostri ragazzi in un viaggio alla scoperta dello storytelling delle passioni. Per realizzare cosa? Per realizzare un libro o meglio un libretto che conterrà una pagina ciascuno le passioni dei nostri ragazzi raccontate da loro. L'Accademia partirà da gennaio per un totale di otto incontri di due ore ciascuno e sarà gestita appunto da Emiliano Poddi, da due autori della casa editrice ADD e da me. Sì! I mi ricordato. Sì! Sì!